Per la seconda giornata di formazione al Centro Sociale Anziani di Via Garibaldi a Città Ducale abbiamo affrontato il tema di un'altra dipendenza legale, quella dall'alcol. I partecipanti si sono confermati numerosi, interessati a una tematica tanto diffusa e vicina a tutti, perché è facile passare da un bicchiere di vino a un bicchiere di troppo, soprattutto quando non si ha più una famiglia vicino, ci si sente soli e ci si abbandona alla malinconia e alla depressione. A parlare in maniera dettagliata ma anche semplice e chiara delle cause e delle conseguenze dell'abuso di alcol, il dottor Francesco Bernacchia, collaboratore del professor Mangiaracina dell'Università La Sapienza. Francesco ha coinvolto subito il gruppo e ha cercato di spiegare come sia inutile affogare i dispiaceri nell'alcol, perché quelli sanno nuotare benissimo e svuotati i bicchieri li ritroviamo esattamente di fronte a noi. Finché il consumo è occasionale non è un problema, però in Italia ci sono 30.000 morti all'anno per alcol, che causa soprattutto incidenti stradali e cirrosie epatiche. Per tanti anni l'alcol è stato sponsorizzato nei film e nelle pubblicità come elemento posto in contesto di divertimento, senza ribadire che invece genera una dipendenza vera e propria su cui è importante porre l'attenzione. La pubblicità ci mostra sempre il lato bello, le bottiglie di spumante stappate dagli atleti, il fascinoso George Clooney che dice a Miccante no martini no party, ma la realtà è un'altra. Esagerare nel bere fa star male, danneggia il fegato ma anche il cervello. Gli anziani presenti questa riflessione l'hanno fatta, con partecipazione ed entusiasmo, ricordando insieme la pubblicità dei brandi nel vecchio carosello in tv e riflettendo su come certi slogan si siano impressi nella memoria e abbiano incitato un certo modo di fare. Chi non ha dell'alcol in casa? Tutti hanno una bottiglia da offrire agli ospiti o da stappare per festeggiare, però senza demonizzazioni è bene ricordare che meno è meglio.